Lo sport è una grande occasione per i nostri ragazzi per crescere nella loro vita, in particolare per crescere nel bene, in una forma che possiamo dire etica, cioè in una forma che permette davvero di crescere nel bene passo passo fino alle grandi scelte della vita, perché la vita va spesa, va spesa bene, va spesa per grandi ideali. Lo sport è un motore di crescita per stare bene e costruire una società migliore, questo è lo spirito che ha spinto la PGS San Rocco di Sondrio ad organizzare l'evento Beyond Fair Play, oltre il Fair Play, un incontro dibattito nel corso del quale è stato affrontato il valore profondo dello sport, lo spirito etico e salesiano attraverso il quale praticare una disciplina sportiva diventa strumento educativo fondamentale per la buona crescita dei giovani. Lo sport come una scuola di vita, cioè una sorta di, mettiamo così, tirocinio pratico, occasione in cui ci ha permesso passo passo un'occasione di crescita per diventare davvero sempre di più uomini e donne che costruiscono già nello sport, attraverso l'impegno, la fatica, il sacrificio, se stessi, ma con lo scopo, come direbbe Don Bosco, di essere buoni cittadini, onesti e cristiani e costruire già nel piccolo, ma sempre più nel grande, una buona società e quindi un mondo migliore. Il rispetto dell'altra persona, il rispetto delle regole, il gruppo, il giocare insieme, il divertirsi, anche il raggiungere dei valori importanti. Io penso che lo sport sia uno di quei strumenti indispensabili, che un educatore deve fare propri. Ecco perché qui nel nostro oratorio noi teniamo viva lo sport con la polisportiva giovanile salesiana San Rocco, perché vogliamo aiutare ed educare, aiutarci ed educarci insieme ai nostri ragazzi, che fare le cose insieme è bello, è importante, ti fa crescere, ti fa venire voglia di, possiamo dire anche di spalancare il cuore per abbracciare il mondo. L'obiettivo di questo incontro è quello di mettere in primo piano l'importanza, spesso insostituibile, dello sport, in particolar modo per i bambini e per i ragazzi. L'importanza è che evidentemente, ma è bello che tutti ne siano bene a conoscenza, va al di là della vittoria, va al di là della bravura e al di là del gesto tecnico. Crediamo piuttosto che lo sport possa essere davvero un mezzo privilegiato per l'educazione e la crescita delle persone, in particolar modo dei più piccoli. Come PGS San Rocco crediamo inoltre che sia possibile fare sport con la guida e con la risorsa del modello oratoriano e salesiano in particolar modo.